Benjamin Pavard, il nuovo talento difensivo dell'Inter, si è aperto in un'intervista esclusiva con Dazon, condividendo dettagli intimi sulla sua carriera, le ambizioni e la sua esperienza nel calcio italiano. Il debutto in Serie A è sempre un passo importante per un calciatore straniero, e Pavard ha iniziato con entusiasmo. Seguivo il calcio italiano da tanto tempo, ho tanti amici che giocano in Italia. Per me è un campionato forte tatticamente, sento di poter imparare un sacco di cose qui. Queste parole testimoniano la sua ambizione di crescere e migliorare costantemente. Pavard, ex Bayern Monaco, ha sottolineato il suo orgoglio nell'essere parte dell'Inter e ha chiarito il suo obiettivo principale, vincere trofei. Sono uno che ha fame di vincere trofei. E mi piacerebbe vincere parecchi titoli anche con l'Inter, a fine stagione festeggiare lo scudetto e mettere la seconda stella sulla maglia, ha affermato. La scelta di Pavard di approdare in Italia è stata influenzata dalla reputazione dell'Inter e dalle ambizioni condivise del club. L'Inter si è presentata con le mie stesse ambizioni, ovvero vincere il maggior numero di trofei possibili, ha spiegato Pavard, dimostrando la sua determinazione. Il giocatore ha anche condiviso il suo ruolo preferito in campo, rivelando che si sente più a suo agio come difensore centrale in una linea difensiva a tre. Ha sottolineato l'importanza di potersi esprimere nel ruolo che preferisce e portare la sua esperienza alla squadra. Pavard ha toccato anche un argomento personale, la sua vittoria nel Mondiale in Russia con la nazionale francese. «Quando vivi queste emozioni, quando vinci il trofeo più bello e più importante in assoluto, hai ancora voglia di vivere gioie simili coi tifosi», ha detto con emozione. Il calciatore è originario della regione del Nord Pass d'Ecale ed è orgoglioso delle sue radici. «Sono fiero di essere nordista, per me vuol dire la famiglia, gli amici, il mio vecchio club», ha dichiarato, evidenziando l'importanza delle relazioni personali nella sua vita. Pavard ha concluso l'intervista riflettendo sull'aspetto mentale nel calcio e sull'importanza della perseveranza. «Nessuno mi ha regalato nulla, tutto ciò che a me lo sono guadagnato col mio lavoro», ha affermato, enfatizzando il suo impegno costante nel migliorare. Quest'intervista a Benjamin Kavard offre un affaccio nella mentalità di un giocatore determinato a contribuire al successo dell'Inter e a continuare a vincere trofei nella sua carriera.